come abbiamo detto in precedenza nei momenti dei festeggiamenti che partiremo, almeno quella che è la nostra intenzione da mister di Pasquale augurandoci che lui ovviamente accetti sembra che non ci siano avversità su questa cosa i calciatori, come abbiamo già sempre detto è un bel gruppo quindi cercheremo di confermare quanto più possibile forse è ancora presto però più o meno sapete già quale sarà il vostro obiettivo del prossimo anno cioè farete un pensierino alla D oppure comunque la salvezza resta la prima cosa la prima cosa è la salvezza perché ovviamente è una neopromossa uno deve mantenere i piedi ben stabili a terra ovviamente cercheremo di non fare un campionato semplicemente di salvezza ma cercare di stare lì di stare a classifica di giocarci i playoff poi bisogna vedere anche Grutta Minarda come rispondere potrebbe essere che qualche nuovo imprenditore che magari in passato aveva deciso di affiancarci e poi non ci ha più affiancato ci sono nuovi imprenditori che magari in questo momento parlano della squadra non so se se è realmente quegli altri scopi che potrebbero avvicinarsi vedremo sulla questione stadio qual è la situazione e quali sono le vostre intenzioni in merito Allora la situazione stadio purtroppo non aspetta a me decidere o immaginare quello che si potrebbe fare perché lo stadio è uno stadio comunale e quindi non è uno stadio privato adesso ci sono le votazioni a Grutta Minarda quindi non sappiamo se ci sarà la stessa amministrazione se cambierà l'amministrazione a Grutta Minarda